Ben ritrovati dalla redazione di Cosmopolis Media, ecco le nostre notizie. E' stato assegnato il porto di Taranto per lo sbarco dei 75 naufraghi che nella giornata di ieri sono stati soccorsi sul Marionio dalla Ocean Viking. Mentre l'ONG era in navigazione da Ravenna a Siracusa, il Centro per il coordinamento del soccorso in mare italiano ha incaricato la nave di prestare aiuto ad un'imbarcazione in difficoltà. 75 le persone salvate, tutte provenienti da Smirne in Turchia, tra cui 23 donne e 17 bambini che hanno trascorso almeno una settimana in mare e avevano terminato le scorte di cibo e acqua due giorni fa. In una nota la SOS Mediterranea Italia ha affermato che si è trattato di un salvataggio impegnativo perché la barca velera stracarica e rollava e beccheggiava nel buio. Il Centro per il coordinamento del soccorso in mare italiano aveva intanto incaricato una nave mercantile di restare vicino all'imbarcazione in difficoltà fino all'arrivo della Ocean Viking. Nei prossimi giorni è atteso lo sbarco di queste 75 persone a Taranto. La Polizia di Stato ha sequestrato un quantitativo ingente di droga scoperto all'interno di un'abitazione situata in una contrada di Manduria e arrestato un cinquantenne incensurato del posto. Durante alcune perquisizioni domiciliari effettuate dai poliziotti della squadra mobile nella zona di Manduria, tra cui un'abitazione che aveva nelle sue pertinenze un ampio piazzale, anche grazie al fiuto di Udor, un pastore tedesco di Brindisi, i poliziotti sono riusciti a scovare tra numerosissime bombole del gas accatastate in quel piazzale, una al cui interno era ben nascosta, una notevole quantità di sostanze stupefacenti, 10 panetti di hashish per un peso complessivo di un chilo, una busta di cellophane contenente marijuana e un basetto all'interno del quale erano presenti due involucri di cocaina. Inoltre sempre nello stesso piazzale Udor ha prima scovato un'altra busta con all'interno 300 grammi di marijuana e in un vicino garage un altro involucro di plastica con all'interno più di un chilo della stessa sostanza stupefacente. All'interno del garage poi il personale della squadra mobile ha rinvenuto 220 cartucce di variocalibro detenute illegalmente. Infine in un armadio blindato situato nella camera da letto del cinquantenne i poliziotti hanno scoperto la presenza di quattro pistole, un fucile a pompa e due carabine oltre a circa 2000 cartucce di variocalibro nonché gli strumenti e il materiale necessario per confezionare le dosi di droga. Il cinquantenne è stato arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti e detenzione abusiva di munizionamento e condotto presso la casa circondariale di Taranto in attesa di sentenza definitiva. E' stato arrestato nella tarda mattinata di ieri dai carabinieri di San Giorgio Ionico un pregiudicato di 31 anni del posto per violenza, minaccia, resistenza pubblico ufficiale ed evasione. I militari dell'arma avevano notato l'uomo tossicodipendente attualmente sottoposto ai domiciliari presso la sua abitazione ubicata in un comune limitrofo fermo davanti ad un negozio nel pieno centro abitato di San Giorgio Ionico. Alla richiesta di spiegazioni da parte dei carabinieri il 31enne avrebbe reagito urlando e invendo contro di loro minacciandoli e invitandoli a lasciarlo perdere altrimenti per loro sarebbe finita male. Mentre i militari cercavano di calmarlo e lo invitavano a tornare presso la sua abitazione il giovane ha prima aggredito e percosso un carabiniere poi si è scagliato contro l'auto di servizio colpendola con diversi pugni sul tetto. È stato necessario l'intervento di altre due pattuglie dell'arma allertate dalla centrale operativa per bloccare l'uomo e arrestarlo. Il giovane si trova ora presso la casa circondariale di Taranto in attesa di sentenza definitiva. Ricorre oggi 4 novembre la festa dell'unità nazionale e la giornata delle forze armate. Anche a Taranto le celebrazioni iniziate con la cerimonia in Piazza della Vittoria, alla presenza del sindaco di Taranto Rinaldo Melucci, del prefetto Paola Dessì e del comandante Marina Sud, ammiraglio Flavio Biaggi. Ma noi lo sappiamo cosa è significato nella nostra storia non essere uniti, non essere in pace, non avere il modo di dedicarsi allo sviluppo, specie oggigiorno declinato in chiave sostenibile e quindi fa molto dolore pensare che noi stiamo organizzando i giochi del Mediterraneo, tanti belli eventi di proiezione in positivo verso i paesi del Mediterraneo e poi sull'altra sponda ci sono persone che insomma vivono con l'incubo delle bombe sopra la loro testa senza cibo, senza acqua, senza possibilità di una vita normale, senza la possibilità della scuola per i bimbi. Insomma è una giornata veramente che dovrebbe farci riflettere sul grande patrimonio che ne abbiamo di civiltà, di pace, di unità, anche di uno stato laico che in qualche maniera abbiamo i nostri padri, insomma hanno difeso con le unghie, con i denti, con la vita. Insomma è una giornata importante che è giusto celebrare, lo facciamo sempre, lo facciamo sempre con grande entusiasmo, con grande emozione quest'anno, se possibile un pensiero in più a quei fratelli del mare Mediterraneo che non hanno giornate come queste. Sì, è una ricorrenza importantissima che celebra l'unità nazionale realizzata con il sacrificio delle forze armate, di tanti cittadini, come anche il messaggio del Presidente Mattarella richiama con le sue parole questi valori condivisi che sono poi stati trasfusi nella carta costituzionale e che dobbiamo celebrare per ricordare coloro che si sono così tanto impegnati per questo risultato ma anche coloro che tuttora si impegnano, le forze armate ma anche le forze di polizia e cittadini che credono e condividono quei valori perché la nostra società migliori e progredisca. È importante questo giorno celebrare proprio l'unità nazionale, la festa delle forze armate, un momento molto sentito da noi che vestiamo le stellette e che rinnoviamo quest'oggi il nostro impegno, il nostro servizio all'Italia e ricordiamo i padri della patra, ricordiamo chi ha dato la vita per la costruzione del nostro paese, ovviamente ricordiamo e mandiamo un saluto a tutti quelli che attualmente sono impegnati nelle missioni internazionali. Un incontro inconcludente a detta dei segretari di FIM, Fium e Wilm, quello che si è svolto nella giornata di ieri tra i sindacati metalmeccanici e acciaieri d'Italia alla presenza del nuovo direttore del personale, Andrea Paolo Colombo. Al centro della riunione le molteplici criticità presenti in fabbrica, dagli impianti fermi alla cassa integrazione, dal mancato pagamento dello straordinario negli ultimi due mesi e del bonus contrattuale da 200 euro fino al mancato rientro dalla cassa integrazione di figure chiave per la sicurezza degli impianti e del lavoro, come gli addetti alla manutenzione. Nessuna risposta su nessun tema arrivata ad acciaierie, affermano i sindacati, che contestano soprattutto il mancato riscontro in merito alla richiesta della rotazione del personale posto in cassa integrazione, allo scopo di evitare che il disagio economico ricada prevalentemente su una parte dei dipendenti. Nodo è risolto anche quello dello straordinario non corrisposto nelle buste paga di settembre e ottobre. Con la prossima scadenza del 12 novembre infatti verrà saldato solo ad una parte degli eventi diritto, sull'altra l'azienda ha annunciato un'indagine in corso volta ad accertare eventuali irregolarità. Per ottenere ulteriori chiarimenti su questo aspetto tuttavia è previsto un incontro dei sindacati con l'ispettorato del lavoro, fissato per lunedì 6 novembre. Altro quesito senza risposta infine è quello che riguarda il personale del laminatorio a freddo che rimane in cassa inattivo a detta dei sindacati mentre l'azienda fa laminare altrove i rotoli. I lavoratori del comparto, già protagonisti di un sit-in qualche giorno fa, hanno nuovamente stazionato due giorni fa davanti alla direzione di stabilimento. Pubblicato nella giornata di ieri dall'Istat il rapporto sul benessere eco e sostenibile dei territori in alcune regioni italiane, tra cui la Puglia. Secondo quanto emerso le province pugliesi hanno livelli di benessere relativo più bassi rispetto al complesso dei territori d'Italia e in alcuni casi anche del mezzogiorno. Insomma, gli svantaggi nella nostra regione sono molto più frequenti. I risultati migliori li consegue tuttavia Bari, che nell'ultimo anno si differenzia positivamente dalle tendenze osservate nelle altre province della regione, bene anche la provincia di Barletta-Andreatrani, mentre quelle più fragili risultano Foggia e Taranto. In particolare nel capoluogo ionico è più alta la percentuale dei giovani che non studiano e non lavorano, che si attesta sul 31,8%, un dato più alto della media pugliese, ferma al 26%, e quella italiana che scende al 19%. Per i giovani tra 15 e 29 anni, infatti, Taranto e provincia presentano il più basso tasso di occupazione e il più alto tasso di mancata partecipazione al lavoro, eccezione negativa del tarantino anche per la fruizione dei servizi comunali per l'infanzia, che nelle altre province pugliesi migliora invece significativamente. La retribuzione media annua dei lavoratori dipendenti è infine mediamente più bassa del 2019 in tutta la regione, ma è proprio nel capoluogo ionico che si registra quello che l'Istat definisce un vero e proprio crollo, meno 1.723 euro. Dati negativi anche sul fronte ambientale, nelle province di Taranto e Brindisi infatti la produzione di rifiuti urbani è la più alta della regione, ma Taranto è anche la provincia pugliese, con la più bassa produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. Soffre anche il settore sanitario locale, nella provincia di Taranto si registra la minor disponibilità di medici specialistici, 23,2 per 10.000 abitanti, contro i 37,1 di Bari. Riguardo la popolazione, infine Taranto presenta il dato più basso a proposito del numero di figli per donna ed è al secondo posto per percentuale di over 65, con una crescita totale in negativo del 7%, seconda in questo solo affoggia. Importante invece sul lato economico la presenza di aziende ad alta tecnologia e la rilevanza del settore agricolo. Ore di attesa e di passione per il Taranto, ma anche per i suoi tifosi che sognano in grande mettendo nel mirino la sfida di domenica contro la capolista Juve Stabia. A certificare il ritrovato entusiasmo attorno alla compagine rosso-blu è certamente la caccia al biglietto scatenatasi a partire dal pomeriggio di giovedì con un trend di vendite più di 7.300 italiani staccati nella mattinata di sabato, oltre modo positivo che lascia immaginare ad uno Iacovone sold out nei limiti imposti dalle restrizioni. Il filotto positivo inanellato dai ragazzi di Capuano ha smosso significativamente la voglia di calcio dei Tarantini che dopo aver gremito il proprio stadio in occasione della sfida infrasettimanale contro il Messina proveranno adesso a bissare l'eccezionale colpo d'occhio offerto nel derby contro il Foggia. Nulla trapela per ciò che riguarda la formazione con Capuano che però potrebbe affidarsi ai fedelissimi rinviando ogni discorso relativo ad un eventuale turnover, mentre in casa a giallo-blu il tecnico Pagliuca dovrebbe confermare che il 4-3-1-2 che ha condotto la Juve Stabia in testa alla classifica. Arbitrerà la contesa il signor Simone Gallipò della sezione di Firenze coadiuvato dai due assistenti Mattia Regattieri di Finale Emilia e Alessandro Antonio Boggiani di Monza. Fischio d'inizio alle ore 18.30. Dopo l'ottima prestazione portata a termine a Trento contro i campioni d'Italia in carica la gioiella Prisma Taranto torna tra le muramiche del Palamazzola. Domani domenica 5 novembre alle 17 la sfida contro il Padova. Ai nostri microfoni l'atleta Giacomo Raffaelli. Ho fatto il lavoro un po' individuale oggi alla fine però al giro lo facciamo tutti quindi oggi sono capitato io però sì stiamo lavorando duro ma come tutti i giorni tutte le settimane per farci trovare il ponte la domenica e speriamo ecco di rivedere soprattutto il pubblico che abbiamo rivisto la prima giornata perché ce lo siamo detto tante volte in queste settimane che insomma ci è piaciuto ci ha dato la carica per quel terzo set contro Verona poi purtroppo dopo è successo quello è successo però insomma speriamo ecco. Il tuo impatto da New Entry in questa Gela Prisma è sicuramente positivo in queste prime due gare? Sì sto cercando di andare in meglio di me sicuramente ancora c'è dei miglioramenti da fare siamo qui su questo parquet per arrivare pronti la domenica pronto io e pronta tutta la squadra. Dopo due sconfitte casalinghe consecutive il cussionico basket Taranto torna in campo domani sera alle 18 a Iesi per la terza partita in otto giorni valida per l'ottava giornata di campionato. Coach Mario Cotignoli spera di recuperare Valentini che sta facendo di tutto per esserci e partirà certamente con la squadra il suo impiego però verrà valutato solo domani. Taranto ha bisogno di punti per smuovere la classifica e dopo due sfide contro squadre di livello superiore arriva lo scontro diretto. I rosso-blu potranno far valere la maggior fisicità e presenza al rimbalzo, contiune su tutti ma anche il momento d'oro di Reggiani. Dovranno però anche limitare le palle perse e le difficoltà difensive a fronte di una squadra come quella di Iesi che eccelle nei recuperi. Dalla redazione di Cosmopolis News è tutto, al prossimo aggiornamento.